Sono passati quattro anni da quel giorno terribile. Era la mattina del 7 luglio 2017 quando si verificò il crollo di uno stabile di quattro piani al civico 1 di rampa annunziante a Torre Annunziata. Nella palazzina abitavano due famiglie, le vittime furono otto. A distanza di quattro anni da quella tragedia che sconvolse un'intera comunità, stroncando la vita di otto innocenti, i coniugi Giacomo Cucurullo e Edi Laiola con il figlio Marco, i coniugi Pasquale Guida e Anna Duraccio con i figli Francesca e Salvatore, la signora Pina Aprea. Questa sera alle 19 presso Villa Parnaso il ricordo delle vittime. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Don Ciro Cozzolino, parroco della Chiesa della Santissima Trinità, verrà deposto sul luogo del crollo il Ciro della Giustizia, un'iniziativa promossa dal Presidio Libera di Torre Annunziata. E mi piace pensare che un soffio di vento all'improvviso sia la carezza di chi non è più accanto a noi. Con queste parole anche sulla pagina istituzionale del Comune di Torre Annunziata, il ricordo di Giacomo, Edi, Marco, Pasquale, Anna, Francesca, Salvatore, Pina.